Sono iniziati questa mattina all'alba, se non ci saranno intoppi, termineranno entro la fine del 2021. Era stato programmato quasi 20 anni fa l'avvio dei lavori di soppressione dei passaggi a livello di Via Andria e Via Vittorio Veneto, un giorno storico per la città di Barletta che saluta per sempre le barriere ferroviarie nella speranza di vedere conclusa tra due anni e mezzo la riunificazione di un territorio ancora oggi diviso dai binari. I passaggi a livello saranno sostituiti da due sottovia carrabili e pedonali verso i quali si verrà indirizzati da una rotatoria che sorgerà tra Via Andria e Via Callano, un'opera pubblica monumentale dal costo preventivato di circa 8 milioni di euro, spesa che sosterrà quasi interamente rete ferroviaria italiana. Finalmente si porta a compimento un desiderio di tutti i cittadini di Barletta che era quello di ricucire la città e di smetterla con questi due passaggi a livello che di fatto rendevano difficile la vita di tutti i cittadini e la complicavano sia sotto l'aspetto dell'economia del luogo ma anche sotto l'aspetto dell'inquinamento, della rumorosità e del tempo che si perdeva dietro questi passaggi a livello. Quindi c'è un recupero del tempo alla vita della città. Quale sarà il compito del Comune in questi due anni e mezzo dei lavori? Quello di vigilare quasi quotidianamente, questo lo farà il Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, Ruggero Di Corato, di non trascurare affatto i lavori e di vigilare sempre affinché i lavori abbiano a conclusione nei tempi previsti. Da questa mattina la polizia locale sta presidiando il cantiere e le zone della città interessate dalla nuova viabilità. Per chi proviene dalla statale 170, via Andria sarà percorribile sino ai blocchi di cemento posizionati all'altezza delle officine Messina, mentre per chi arriva dal centro cittadino la stessa strada si interromperà all'incrocio con via Boccassini, dove sarà obbligatoria la svolta a destra, l'ingresso in via Risorgimento e il ritorno su via Andria. Tra le novità più rilevanti per la circolazione veicolare è il cambio del senso di marcia in via Rizzitelli, la strada che da oggi permetterà di raggiungere via Andria partendo da via Alvisi. Nella zona interessata dal cantiere sono state pensate alcune soluzioni per facilitare gli spostamenti dei pedoni. Sono già attivi da questa mattina i trini che da Barletta a Scalo consentiranno di raggiungere la stazione centrale e viceversa i pullman della ferrotranviaria che arrivano sino in Viale Marconi e le navette al servizio degli studenti. Sono già attivi da stamattina, ovviamente in corso d'opera, la settimana prossima sarà anche importante per capire quali accorgimenti migliorativi possiamo apportare, quale sarà la richiesta di flusso degli studenti verso il bus in navetta e verso anche l'utilizzo della Bari Nord. Inevitabili disagi nel traffico veicolare determinati dall'inizio dei lavori. Gli imbottigliamenti più problematici si stanno verificando in via Doronzo dove ha inizio il percorso che da via Andria porta sino a via Alvisi. Fila di macchine anche in via Scuro, la strada che collega il sottovia Callano a via Trani. Qui nei prossimi giorni verrà installato un impianto semaforico.